Ciao a tutti, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi do il benvenuto in un'anteprima speciale. Zuleya si trova in un luogo sacro, la tomba di Ankar. Sta piangendo la perdita di Ankar e il fatto che non è stata in grado di proteggerla da Beaccais. Accarezza la fredda lapide di Ankar mentre le dice che finalmente può riposare in pace, poiché il suo assassino ha pagato per il suo terribile crimine. Demir si avvicina a Zuleya e le confida di aver saputo che lei sarebbe venuta a trovare Ankar. Zuleya risponde che aveva bisogno di un ultimo dialogo con Ankar. Demir la ringrazia per aver ottenuto giustizia per sua madre, consentendole di riposare finalmente in pace. Zuleya, desiderosa di chiarezza, chiede a Demir se ha già parlato con il procuratore. Demir risponde che il corpo di Beaccais è stato portato all'obitorio e che il procuratore ha dichiarato che il caso sarà chiuso, poiché il colpevole è stato individuato e non c'è più nulla da fare. Zuleya si chiede se sarà permesso a Beaccais di essere sepolta lì, ma Demir risponde negativamente, affermando di aver già discusso la questione con Fekeli. Zuleya rivela la profonda mancanza che prova per Ankar. Demir capisce il suo dolore e sottolinea quanto Ankar le volesse bene, considerandola come una figlia. Demir fa notare anche come Zuleya abbia fatto molto per Ankar e la sua famiglia, nonostante tutte le avversità che ha affrontato. Demir è curioso di sapere di più su Sadi e il motivo per cui Zuleya ha chiesto il suo aiuto. Zuleya spiega che Sadi era un tenente di polizia che aveva conosciuto a Istanbul e che le aveva offerto il suo aiuto in passato, quindi gli aveva chiesto di indagare sul caso. Demir esprime la sua gratitudine per l'aiuto di Zuleya e la sua preoccupazione. Ogni volta che la guarda, le ricorda sua madre, ed è per questo che la comunità di Kukurova la rispetta e la ama, poiché è coraggiosa e gentile come lo era Ankar. La sera, Fikret porta una coperta a Mugeigan, ma lei la rifiuta. Nazire cerca di darle del cibo, ma Mugeigan rifiuta anche quello. Fikret la esorta a mangiare qualcosa per non ammalarsi, ma Mugeigan, triste, confessa di non avere voglia di cibo. Fikret cerca di sollevarle il morale parlando di Kerem, ma Mugeigan scoppia in lacrime e dice che suo figlio è l'unica cosa che conta per lei ora. Fikret le assicura che può contare su di lui, poiché non la lascerà sola, e le ricorda che deve essere forte perché Kerem ha bisogno di lei in salute, quindi deve prendersi cura di se stessa e mangiare adeguatamente. Alla fine, Mugeigan accetta il cibo che le offre Fikret. Fekeli arriva e si avvicina a Mugeigan, chiedendole come sta. Mugeigan risponde che è molto triste e si vergogna profondamente, tanto da non riuscire a guardarlo negli occhi dopo quello che è successo. Fekeli le chiede il motivo di queste emozioni, cercando di consolarla. Mugeigan risponde che sua zia ha ucciso l'amore della sua vita per avidità. Fekeli cerca di rassicurarla, dicendole che non è colpevole e che non può essere ritenuta responsabile per le azioni della sua famiglia, poiché nessuno può scegliere la propria famiglia o essere ritenuto responsabile per le loro azioni. Mugeigan esprime il suo profondo senso di delusione nei confronti della zia e del padre. Fekeli cerca di consolarla, ma Mugeigan sottolinea che lui è una persona di grande bontà e che deve sopportare un dolore ancor più intenso del suo. Tuttavia, Fekeli fa del suo meglio per offrirle conforto. Le assicura che sarà presente come un membro della sua famiglia e accenna al funerale di Beakkaiz. Mugeigan cerca di rassicurare Fekeli dicendogli di non preoccuparsi, poiché Beakkaiz sarà sepolta a Istanbul. Le spiega quanto Ankar fosse importante per lui e quanto fosse determinato a non permettere che il suo assassino condividesse la stessa terra di riposo di Ankar. Fekeli ribadisce che non la lascerà sola al funerale e chiederà a Çetin di accompagnarla. Tuttavia, Fikret interviene, affermando che non lascerà che Mugeigan affronti questo momento da sola e che sarà con lei al funerale il giorno successivo. Grata. Mugeigan ringrazia Fikret e se ne va, esprimendo la sua stanchezza. Fekeli commenta quanto spera che Mugeigan si rimetta presto. Fikret riflette su quanto deve essere difficile per Mugeigan, scoprire che sua zia e suo padre sono assassini e assistere alla morte della zia nello stesso giorno. Fekeli condivide le sue preoccupazioni. Confessando che all'inizio aveva provato compassione per Beaccais, poiché era stata abbandonata da Bezat e aveva permesso a Beaccais di vivere con loro. Tuttavia, ammette che non aveva compreso pienamente quanto fosse malvagia Beaccais. Inizia a piangere mentre si rammarica di non essersi reso conto in tempo di quanto fosse dannoso avere Beaccais nella loro vita. Esprime il suo rimorso per non aver riconosciuto il male fin dall'inizio e per aver vissuto accanto a colei che aveva portato via l'amore della vita di Mugeigan. Nonostante tutto, Fekeli trova un certo conforto nella giustizia che è stata fatta per Anka, e nell'idea che ora possa riposare in pace. Si rassicura pensando a Zuleya, che sta seguendo le orme di Ankar e ha persino placato Demir. Fekeli ammette che aveva temuto che Demir potesse diventare un assassino, ma ora Zuleya si prende cura di lui. Rivolgendosi a Ankar, esprime il suo profondo affetto e la sua mancanza. Il giorno successivo, Mugeigan e Fikret si dirigono verso l'obitorio, dove il medico esprime le sue condoglianze a Mugeigan e consegna loro i documenti necessari. Il corpo di Beaccais viene portato via in un carro funebre, e Fikret abbraccia Mugeigan. Durante il viaggio in macchina, Fikret comprende il dolore di Mugeigan, riconoscendo che, nonostante le terribili azioni di Beaccais, lei rimane sempre sua zia. Fikret le consiglia di non trattenere il suo dolore e le permette di piangere liberamente, sia per la perdita che per il fatto che Beaccais abbia commesso orribili crimini con l'aiuto del padre. Racconta di quando era bambina, sempre piena di gioia nel vedere la zia che le aveva dimostrato più affetto della madre. Quando Beaccais veniva a casa, si sentiva finalmente parte di una famiglia, con i suoi genitori che preparavano grandi cene e tutti si sedevano a tavola insieme. Ma alla fine, ha scoperto che sua zia era un mostro. Fikret cerca di alleviare la sua colpa dicendole che non è responsabile per le azioni della sua famiglia e che è diversa perché ha un cuore gentile. Mujeygan confessa che Beaccais era l'unica in cui aveva fiducia, ma ora tutti i suoi ricordi di felicità sembrano andare via con lei. Fikret cerca di darle speranza, dicendole che ogni persona può plasmare il proprio destino e che ha solo bisogno di tempo. A Istanbul, si svolge il funerale di Beaccais, ma nessuno sembra partecipare. Mujeygan piange per le terribili azioni compiute da suo padre e sua zia, mentre Fikret aiuta con la tomba. Un conoscente si avvicina a Mujeygan per esprimere le sue condoglianze. Mujeygan lo ringrazia e gli chiede del perché nessuno sia venuto al funerale, nonostante avesse chiamato diverse persone. L'uomo le spiega che ci sono stati dei contrattempi che li hanno impediti di partecipare, ma tutti rimpiangono la morte di Beaccais perché le volevano bene. Mujeygan ringrazia tristemente e chiede della signora vicina a Beaccais. Quest'ultima le rivela che anche lei non ha potuto partecipare. Mujeygan la ringrazia con tristezza per essere andata al funerale e prega per l'anima di Beaccais. Mujeygan rivela al padre e alla zia che vorrebbe non aver mai scoperto cosa hanno fatto, perché ora ogni volta che penserà a loro, proverà vergogna invece di tristezza. E così si conclude questa anticipazione. Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. E se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!